Giovanni Salvetti per MSC TV. Professore, il Cardinal Maradiaga nella sua rexium magistralis ha accennato alla complementarietà fra etica e economia. Come può l'economia essere al servizio della crescita della persona? L'economia dà delle opportunità, bisogna saper cogliere quelle opportunità e questa è la società che deve organizzare per i cittadini, per chi vuole partecipare al sistema economico le possibilità perché tutti abbiano la stessa opportunità, dunque un sistema educativo, un mercato del lavoro che funziona, in modo che ognuno possa scegliere la propria via e partecipare a un sistema economico che consente a ognuno di realizzarsi nell'ambito di una giustizia complessiva della società. Grazie. Recentemente è uscito il suo libro Morire di austerità, le democrazie europee con le spalle al muro. La nostra domanda è perché si muore di austerità e come si può evitare tutto questo? Si muore di austerità perché si aspetta troppo. Le nostre società avanzate devono fare grandi cambiamenti per far fronte alla tecnologia, alla globalizzazione, all'invecchiamento anche della popolazione che cambia la distribuzione del reddito. Dobbiamo per adeguarci a questi cambiamenti fare delle riforme, però queste riforme sono costose politicamente, dunque la politica tende a rinviare nel tempo queste riforme, fin quando si arriva sull'orlo dell'abisso, con le spalle al muro, spinti dai mercati finanziari che non vogliono più comprare il debito. A quel punto lì, di fronte alla crisi, si decide in estremis, però si prendono le decisioni spesso sbagliate, che sono quelle di aumentare le tasse, fare misure di austerità. Dunque se si aspetta troppo, alla fine siamo intrappolati in un meccanismo politico decisionale sbagliato, cioè che ci porta sempre a discutere di tasse invece che di riforme, di crescita, di opportunità per la società. A proposito dei giovani e l'impresa, quali sono le sfide che deve affrontare un giovane oggi e nel suo futuro se vuole fare impresa? Ma le sfide, la sfida principale è di capire che l'orizzonte della propria impresa è il mondo, con le tecnologie attuali un imprenditore deve crescere, deve avere ambizioni per andare oltre il paese, oltre la regione, oltre il continente e guardare nel suo insieme, perché la concorrenza poi è ovunque, dunque deve avere grandi ambizioni, deve avere anche la capacità di innovare, di andare a cercare quelle che sono le migliori opportunità ovunque e poi essere consapevoli che alla fine è il merito che conta, se ci si confronta a livello che va è il merito, non sono le relazioni, le raccomandazioni. Un giovane che vuole puntare alla propria crescita professionale deve guardare soprattutto al merito e capire qual è il settore dove vuole andare e andare fino a fondo. Giovanni Salvetti per MSC TV